Il lungomare di Soverato accoglie le cavallucce marine della volle di Soverato. Inizia un'altra stagione, non so più quale, in serie A2, ma inizia sempre col presidente, il dottore Totò Matozzo, col solito entusiasmo, la solita grinta e la solita volontà. Determinazione, sicuramente iniziamo anche questo 14esimo campionato di A2. Siamo la società più vecchia dal punto di vista degli anni di partecipazione, però quest'anno abbiamo fatto una squadra giovanissima, con tanto entusiasmo, non speriamo di fare bene, vogliamo sicuramente cominciare nel migliore dei modi. Ovviamente abbiamo confermato alla grande Bruno Napoletano che ha fatto tanto bene negli anni passati, gli abbiamo chiesto di cercare di concludere questo campionato perché ogni qualvolta stavamo andando bene, stavamo facendo bene, poi per via di questo benedetto virus abbiamo dovuto interrompere. Noi quest'anno vorremmo non interrompere il campionato, vorremmo fare le cose per bene, vorremmo creare il giusto entusiasmo per questa splendida cittadina e soprattutto per la Calabria e perché no, per lo sport. Io credo molto in questo, quindi per lo sport faccio di tutto, continuerò a farlo. Abbiamo riconfermato anche il vecchio staff tecnico del Vole Soverato e abbiamo detto a tutti coloro che ci vogliono bene, se ci fanno entrare al palazzetto come si pensa che possiamo entrare in un numero del 35, 40, 50 per cento, venite a fare il tifo perché vogliamo fare bene. Il Presidente è arrivato accompagnato dalla signora, quindi la garanzia è che l'entusiasmo è sempre al mille per mille. È il Vice Presidente, quasi non la porti, ma è entusiasta soprattutto perché vorrebbe vedere la nostra squadra vincere ancora una volta. Lei ha un sogno nel cassetto, la Coppa Italia, e noi cercheremo di portargli questa Coppa Italia a Soverato, faremo di tutto. Anche se nel cassetto il Presidente Matozzo ce ne sta più di uno di sogni, Presidente, l'appello a Soverato, così come è bello a Soverato, è bella la squadra di volley. Non ci piace, l'appello a Soverato è venite a Soverato, godetevi questo splendido clima, le ragazze sono tutte contente di quello che hanno trovato, sebbene si lavora con un caldo non da poco, però l'entusiasmo che accoglie e che sta facendo vivere questa prima fase alle ragazze è tanto che io sono fiducioso che faremo sicuramente bene. Viva Soverato, viva la volley Soverato. Viva Soverato prima, viva la Calabria dopo, viva la volley Soverato. Io sono emozionato perché ancora una volta nel quarto anno, se non vado errato, c'è Coach Napolitano che sta al Soverato come Antonio Conte stava all'Inter nel segno che la garanzia di serietà, concretezza e risultati, perché ce ne sono stati in questi quattro anni. Vi ringrazio della fiducia, mi date una responsabilità enorme, visto che avete citato uno degli aneratori più... No, io sono contento perché poi alla fine ci siamo sempre trovati con il Presidente Matozzo, poi Soverato per me è la mia non più quasi seconda casa, la prima casa, quindi si dice seconda casa, ma in realtà è la prima. Quindi ritorniamo con grande entusiasmo, con la consapevolezza di dover lavorare tanto, come al solito. L'idea è quella comunque di fare bene così come è stato negli anni precedenti. Quello che si chiede il pubblico, che si chiedono i tifosi, è com'è quest'anno la squadra? Giovane, ma Coach Napolitano saprà dare lo spirito giusto? Ma è un po' meno giovane degli altri anni, è un po' più eterogenea rispetto agli altri anni. Gli altri anni diciamo che era effettivamente molto giovane, l'anno scorso, quest'anno abbiamo due palleggiatrici molto giovani, il 2003, abbiamo altri due elementi del 2003, è un po' più eterogenea. Come la squadra, come sempre dico, lo dirà il campo, cioè nel senso io ho ringraziato la società, il Presidente Amatozzo, Antonio Vagliengo per essere riusciti comunque ad allestire sicuramente una buona squadra col quale si può lavorare, questo è già un punto di partenza, perché abbiamo visto che poi alla fine il lavoro paga, quindi l'idea è quella di ottenere risultati lavorando sul campo. Abbiamo la consapevolezza di avere qualcuno davanti a noi, però la storia ci ha insegnato, la storia recente ci ha insegnato che non significa niente, alla fine siamo riusciti a cogliere risultati in questi tre anni trascorsi, un po' ovunque, quindi non partiamo da favoriti, ma partiamo con la consapevolezza che il lavoro ci può dare quello che ci manca ed è la filosofia che avremo durante tutto l'anno. Il Presidente Amatozzo ha detto che la moglie, la vicepresidenta, ha un sogno nel cassetto la Coppa Italia e questi cassetti cominciano a diventare ingombranti. Noi lavoriamo ovviamente per ottenere il miglior risultato possibile, quindi teniamo la Coppa Italia così come teniamo ogni partita che andiamo a giocare. È un obiettivo importante, che hanno anche le altre squadre, per cui il novero dei contendenti è un novero corposo, non è così semplice. Dobbiamo vedere che risposte ci darà il campo. Sicuramente lavoreremo per ottenere il miglior risultato possibile. Se poi questo sarà utile a portare a casa la Coppa Italia, così come qualche altro risultato, sarà il campo a dircelo. Grazie a Coach Napolitano. L'impegno dei tifosi quest'anno è di capire almeno due delle mosse che fa in campo e che di solito non capisce nessuno. Grazie a voi e buona serata. Ci rivediamo al palazzetto. Grazie. E con Antonio Vagliengo, direttore tecnico della Volla di Soverato, vorremmo fare un'analisi di come è stato difficile questo mercato, che però vede ancora uscire fuori un Antonio Vagliengo alla grande, che porta dei colpi importanti. Sicuramente è stato un mercato difficile, ma ha investito un po' tutta la pallavolo italiana. però diciamo che noi ci siamo mossi con un discreto anticipo e siamo riusciti a portare delle giocatrici sicuramente interessanti e di peso nell'ottica, nella dimensione che ci contraddistingue negli ultimi anni. Per cui sicuramente siamo soddisfatti di questa progettualità e proseguiremo su questa strada, convinti di poter far bene anche questa stagione. E ormai sono vari anni che lo staff tecnico e l'allenatore sono gli stessi, quindi le responsabilità aumentano? A noi ci gratificano le responsabilità, per cui sicuramente il nostro sogno è che questa società cresca sempre di più e di regalare un sogno anche al nostro Presidente. Per cui sicuramente anche quest'anno saremo agguerriti e tireremo fuori ogni goccia di sudore, ogni risorsa per dare il meglio e per ottenere il massimo. Come avete visto anche nell'ultimo campionato, ci siamo comportati più che degnamente nella pool promozione. Antonio Vajengo guarda sempre lontano e di solito guarda bene. Per il finale del campionato cosa vede? Il finale del campionato è un campionato molto difficile, sicuramente ci sono quattro realtà importanti che hanno fatto dei roster di prima qualità, però come sempre il giudice è unico, instaccabile del campo. Chiaramente noi siamo soddisfatti del roster che abbiamo a disposizione e siamo sicuri che potremo dire la nostra. Grazie e buon lavoro. Grazie davvero. Buon lavoro a voi. Grazie.